E ora, Nexon Knights! Ehi, ma che succede? Ma ritroviamo! Nexon Knights, la fortuna di essere Lance! Qui è Alice Spires, in collegamento per la serata di gala in occasione della prima della nuova commedia romantica thriller di azione L'Uomo Joust per me! Come potete vedere, dietro di me stanno arrivando tutte le personalità più importanti del regno! Buonasera, Altezza Reali! Posso chiedervi se vi state divertendo? Beh, siamo appena arrivati, quindi... Regina Albert, siete splendida, come sempre del resto! Che cosa indossate? Un vestito, mia cara! L'ho preso nell'armadio! Regi, che ti prende? Fai le squadrature a casaccio! Oh, c'è l'altro reggibone! Il Cavaliere Fortunato in persona! Funti Affidabili riferiscono che sarebbe stato offerto il ruolo di protagonista nel rifacimento di Il Castello Dorato! Purtroppo non sono autorizzato a parlarne, Alice, ma la tua gentilezza potrebbe indurmi a dire qualcosa! Scusami, cara! Dimmi! Cosa? Adesso! Esatto, adesso! Ehi, insomma, sono al telefono! Senti, vieni più presto che puoi, d'accordo? Va bene, arrivo subito Mi dispiace, ma devo proprio andare Il giulare cattivo, i mostri di lava, insomma, un sacco di problemi Sono certa che i nostri spettatori adorerebbero seguire un Cavaliere in una missione! Beh, come si fa a dire di no a una così gentile richiesta? Dai, seguimi! Senti, questo Cavaliere! Senti! Senti! Pronti per il Nexoscan! Ecco l'è, ecco l'è! Sì, Merlock! Nexo... Knight! Nexos! Nexo Power, eroe abbaglionte! È straordinario! Riuscite a vederla, riuscite a vederla! Perché Gestro si sta attaccando così allo scoperto? È vero, di solito è molto più subido e infido Già, sembra davvero avventato Se io non fossi qui sarei alla prima con il re e la regina Ma certo, è un diversivo Il re è in pericolo Torniamo indietro, presto! Seguiamolo, seguiamolo! Rapirò il re e la regina con il mio carro pieno di scarboidi Cosa? Oh no! L'Avaria, perché sei sempre così cattiva? Non passerò la sera della prima in una squallida prigione! È stato il f...